Seconda giornata valida per la Golden League di calcio a 7 per la provincia di Piacenza. Incontro molto importante per delineare la rincorsa verso i playoff. Real Sud di Mister Pumo in maglia azzurra con Damore, De Blasio, Ferrara, Langella, Licciardi, Luca Ioli, Luongo, Ranieri, Scola e Turco. A Griseme risponde in tenuta nera con Cremonesi, Lizzori, Mantegazza, Moreni, Sant'Agata, Segalini, Susani, Zanaboni. Vantaggio immediato Real Sud con Licciardi che si avventa su un pallone vagante, fa 1-0. Pareggio a Griseme con Zanaboni che sottoporta e ribadisce il rete dopo un colpo di testa di Cremonesi. Grande giocata di De Blasio che si alza la sfera calcio al volo di sinistro, tiro centrale, preda di Susani e ancora Susani a deviare un tiro angolato di De Blasio. A Griseme passa in vantaggio con una sortita personale di Mantegazza che è arrivato al limite col sinistro, fa 2-1. Ancora Mantegazza dalla sinistra, tiro e deviazione laterale di Luongo. Susano miracoloso sul colpo di testa da due passi di Ranieri. Secondo tempo che si apre con Mantegazza che ci prova di destro, palla, larga di poco. Ripartenza di Agriseme con Lizzori che arriva alla conclusione ma Luongo respinge. Non sbaglia, poco dopo lo stesso Lizzori imbeccato in area di rigore, fa 3-1. Grande azione corale di Agriseme che con due passaggi arriva in porta ai Ranieri che devia nella propria porta per il 4-1. La Real Sud in avanti è Agriseme che riparte con Lizzori che va a siglare la doppietta personale il 5-1 finale che permette ad Agriseme di qualificarsi matematicamente per i play-off della Golden League. Grazie a tutti.